O l'Europa si sveglia adesso o mi domando che senso abbia di esistere Vi è una emergenza giovani nessuno più trasmette il principio di autorità intendiamo essere anche con i nostri corpi con le nostre presenze fisiche nei luoghi di mobilitazione la velocità della giustizia transita attraverso una forte depenalizzazione ma chi ha paura del reato di tortura? la domanda di sicurezza dello spazio mediterraneo è esplosa gli sbarchi sono triplicati gli sbarchi sono quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso Bruxelles dovrebbe finalmente darci la mano il governo è tornato da Bruxelles a mani vuote se noi pensiamo che il tema oggi sia quello delle ONG c'è evidentemente un attacco della malavita in corso indichiamo un falso bersaglio attendiamo un'aiuto perché l'Italia non può essere sola ad affrontare questo problema non ce lo possiamo permettere buongiorno e ben ritrovati questa mattina voglio dare un po' di numeri ieri è stato il giorno del click day 83.000 posti disponibili per i lavoratori stranieri però dopo solo un'ora le richieste dei nostri imprenditori italiani erano già oltre 240.000 avete capito bene? il triplo dei posti disponibili poi altri numeri dal primo di gennaio sono sbarcati sulle nostre coste 27.000 migranti il quadruplo rispetto a un anno fa e il ritmo è destinato a noi ad aumentare e anche molto perché arriva la bella stagione il mare si calma insomma queste cifre spiegano molto bene come il tema delle migrazioni sia troppo grande per essere risolto da un paese solo come se l'Italia cercasse di svuotare il mare con un secchiello e anche lo sconto tra guardia costiera e ONG appare come un aspetto francamente secondario per non dire irrilevante rispetto alla soluzione della crisi sempre ammesso che la soluzione esista per questo stamattina partiamo anche da una di queste ONG la Mediterranea Saving Humans che ha detto fermiamoci tutti un momento e ripartiamo da zero proviamo a collaborare ha detto al governo italiano che ha scritto anche al capo dello Stato proponiamo una tregua che l'obiettivo dovrebbe essere uno ed uno solo salvare le vite in mare questa lettera l'ha scritta Luca Casarini che è con noi stamattina che saluto e forse effettivamente è come se avessimo sbagliato bersaglio in qualche modo fino adesso chiederei a Storace e Rotoni di entrare in studio buongiorno Francesco Storace buongiorno Gianfranco Rotondi vedo collegato con noi il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana che è troppo tempo che non vedevo buongiorno ben ritrovato Luciano vedo buongiorno a tutti il nostro Antonio Caprarica buongiorno Antonio Luciano io parto da te perché francamente mettere in fila questi numeri stamattina ha fatto molta impressione facciamo un click day dicendo benissimo regolarizziamo l'immigrazione facciamo lavorare gli immigrati come ci chiede peraltro per esempio il mondo dell'agricoltura che ha una fame incredibile di lavoratori ne mettiamo diciamo in palio 83 mila di questi posti e ci accorgiamo dopo un'ora che non solo sono finiti ma che le richieste agli imprenditori arrivano a 240 mila nel frattempo ci diciamo in continuazione com'è possibile l'Italia è devastata troppi arrivi troppi arrivi che ne faremo ma forse basterebbe fargli lavorare negli ambiti e nei mondi che nel nostro paese hanno bisogno di lavoratori perché non riusciamo a fare questa cosa che sembra evidente no? Sì naturalmente questi dati i dati del click day e i dati degli sbarchi ci dicono due cose abbastanza chiare la prima è che il fenomeno dell'immigrazione non si può affrontare con la propaganda perché è un fenomeno epocale che durerà per decenni nessuno riuscirà mai a fermare gli spostamenti dalle zone in cui si muore in cui non si vive bene in cui c'è miseria povertà siccità cambiamenti climatici quindi attrezzarsi a una questione che non è un'emergenza è un dato strutturale della nostra vita per i prossimi anni è un punto essenziale la seconda che lo ricordavi con il click day è evidente che ci sono una serie di lavori per cui non si trova più mano d'opera in Italia o perché proprio non c'è o perché non sono lavori che gli italiani vogliono fare c'è un problema demografico e c'è un problema anche di cambio di attitudine per quello che riguarda gli italiani allora se si mettono insieme queste due cose l'unica possibilità è che si comincia a ragionare di politiche serie in cui l'immigrazione legale viene favorita nel modo migliore possibile per rispondere anche alle esigenze dell'economia e per il resto si considera l'Italia come il paese frontiera dell'Europa quindi tutto il continente europeo comincia a ragionare seriamente delle cose che si debbono fare per mettere insieme questi due dati che riguardano l'Italia ma riguardano altri paesi l'interesse è il tuo pezzo di domenica in cui dicevi siamo dentro una guerriglia ideologica e non riusciamo a fare cose normali perché non si pensa all'interesse del paese storiale mi faccio una domanda io proprio da stupida ma forse lo so proprio con 83.000 posti perché non possiamo dire ne abbiamo bisogno di più persone di più immigrati che lavorano da noi facciamo direttamente un decreto flussi più grande si cambia la cifra li mettiamo a posto perché nel momento in cui lavorano stanno meglio loro stiamo meglio noi se fossimo un'assemblea del PD diremmo il problema è un altro però non siamo fortunatamente siamo gente concreta qui ho letto proprio il quotidiano di Fontana il quotidiano della sera e c'è una riflessione che mi è venuta spontanea su un pezzo di cronaca che avete fatto su queste vicende la domanda è sono lavori stagionari la maggior parte di questi che succede quando è finita la stagione restano o ritornano mi pare difficile immaginare che ritornino a casa loro quindi questo è un problema che ci sarà non è che lo possiamo sottovalutare e mi viene pronto la lettura del Corriere seconda questione quella dei tantissimi che arriveranno io ho sentito e c'è stata anche la denuncia di Giorgia Meloni come no ha prato 900.000 persone potenziali dalla Tunisia però questo aiuta aiuta questo numero a far capire a tutti gli europei che il problema non è solitariano perché non è che restano qua si sparpaglieranno ovunque allora il tema grande è quello che hai posto all'inizio non sapevo di questa proposta di tregua se così si può chiamare per carità se il governo ce la fa con da Casarini in giù io qui non sapevo che c'era no ma in realtà ti dico la verità l'abbiamo chiamato stamattina perché ho letto questa lettera e mi è sempre una lettera di gran buon senso finalmente non li ti chiamo allora proprio per le questioni legate all'immigrazione questo paese e lo scandalo è che nessuno ne parli più l'ho letto sempre sul Corriere una cronaca l'altro giorno beh abbiamo trovato un grande lettore del Corriere caro Luciano sempre sempre il direttore lo sa non mi devo arruffionare ma anche perché con la mia identità diciamo di parte non è difficile scrivere lì quindi è gratuito il mio contributo ma questo paese c'è un ex ministro dell'interno che sta alla sbarra finché a 15 anni che tregua vuoi fare? chi è che si deve fermare? no chiedo scusa chi è che si deve fermare in questo casino generale dell'immigrazione? a me vedere che ogni mese Salvini deve andare a Palermo per rispondere a accuse che sono francamente incredibili beh una cosa strana ma diciamo così vorrei vedere un fondo del Corriere ecco lo dico adesso no 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 io penso sia molto interessante anche perché onestamente io anche io conosco bene Casarini da tanto tempo ha sempre stato a toni molto aspe per criticare per esempio l'operato del governo Meloni per esempio dei gradi piantidosi fatto sta che però questa lettera scritta dalla sua organizzazione questa lettera aperta al presidente del consiglio al consiglio dei ministri è roba di Casarini questa? sì è sua cioè sua insomma lui fa parte dell'organizzazione è uno di quelli che si poi insomma sta sulle navi lo fa questa cosa la fa in prima persona quindi sa pure che succede quando lui dice basta questa guerra all'ONG cooperiamo per salvare i mari più vite possibili produciamo un'azione sinergica davanti a questo imperativo salvare che possa indurre l'Unione Europea è uscita dalla titanza in effetti la stessa cosa dice Salvini cioè noi poi alla fine stiamo guardando la guerra fra di noi quando abbiamo un problema che è enorme abbiamo in Europa che continua a far finita di niente quando l'Italia a palesimo la visita di ieri di Gentiloni a Tunisi non è un far finita di niente è questo anche alle pressioni italiane ha avuto un'opera di thriller quella visita di Gentiloni doveva incontrare il premier tunisino poi no non lo incontra più e qualcuno è intervenuto poi si è un incontro esatto allora Casarini dice però il nostro storace beh lei vuol fare la tregua però insomma sei dei primi che avete detto che praticamente Salvini era un assassino che speronava le navi guardi questa lettera ha il senso di affrontare qui ed ora in questo momento per questi attimi la situazione io le dico solo un dato visto che si è partiti con i dati giustamente dalla strage di Cutro ad oggi sono morte più di 100 persone in altri naufragi nel Mediterraneo cioè questa è una cosa che non non è accettabile non è pensabile cioè noi abbiamo una miriade di problemi di politiche la guardia costiera ha detto che ne ha salvati moltissimi cosa vera perché ne ha salvati credo il numero che hai fatto vedere prima sono persone salvate il numero che hai fatto vedere prima i 27.000 sono persone salvate dalla morte in mare dopo di che però dice Casalini perché continuano a morire persone davanti a casa nostra vorrei evitare il raffronto noi non possiamo dire siccome ne abbiamo salvati 27.000 100 possono morire noi dobbiamo provare a fare in modo di avere un sistema di soccorso in mare efficace il più efficace più efficace allora io dico siccome sta arrivando l'estate noi adesso siamo a marzo abbiamo visto questo il che significa che a luglio è ad agosto sarà tre volte tanto quattro volte tanto allora e congelando un attimo le nostre giuste e sacrosante diatribe e conflitti io dico solo creiamo un sistema da società civile a militare di soccorso più efficace le come dire i pescatori di Mazzara del Vallo l'altro giorno hanno fatto la stessa proposta al governo dicendo noi abbiamo i pescherecci che sono il fermo pesca utilizzateci perché se il tema è un primo grande tema è questo salvare le vite questo ci dà anche autoregolissima io non vorrei fare questa festa adesso sento Rotondi e Caprarica però in realtà il governo dice le cose molto precise dice prima cosa dice le ONG in molti casi funzionano da pull factor perché si avvicinano troppo perché si mettono davanti alle coste ribiche e questo fa sti che le persone sanno che verranno salvati in più ieri dice di fatto la guardia costiera fanno pure un bel caos per non usare un'altra parola nel senso che perché continuamente fanno cioè non fanno come dicono noi quindi non tornano in porto dove diciamo noi non fanno un solo nel caso della nave di Bansky un solo salvataggio ma due quindi ci sono due temi diversi per loro l'imperativo è salvarne il più possibile anche se sono lontani dalle nostre coste vedi acque la famosa SARS libica l'Italia il governo ha una posizione opposta cioè noi possiamo caricarci tutti i problemi del mondo io non ho nulla contro le ONG a cui riconosco anzi di fare il possibile di fare cose in cui tante persone credono perché bisogna dire che lì dentro c'è tanta gente che rischia la vita che dà la vita che dà il suo tempo per salvare vite umane quindi ne parlo con molto rispetto per quanto mi riguarda anche con molta ammirazione è vero è che la guardia costiera ci dice troppi allarmi troppa confusione questo capita ovviamente quando una cosa non è ben organizzata ma il tema che mi angoscia è un altro io ricordo il mio primo comizio lo feci con un grande dimenticato della democrazia cristiana che era l'onorevole Fiorentino Sullo noi pensammo che dicesse una cosa che non aveva aderenza con la realtà e parliamo di 32 anni fa disse la vostra generazione si scontrerà con un tema la grande Africa verrà nella piccola Europa e non avrete più posto per voi detto 32 anni fa noi pensiamo ai migranti giustamente perché non solo il dottor Casalino ma anche il presidente Meloni ha la preoccupazione di salvare vite umane lo ha detto in tutte le interviste dopo l'ultima strage non è un'angoscia che hanno solo le organizzazioni umanitarie è un'angoscia che assicuro prende anche i governi ho fatto parte di un governo lontano come Storace tutti i governi abbiamo visto Silvio Berlusconi piangere sulla costa pugliese in circostanze analoghe non c'è un governo cinico che non si angoscia per le vite umane ma il tema non è quello il tema è che la vecchia Europa non ha un'idea per l'Africa non ce l'ha abbiamo avuto visionari come Sullo come Don Verzee Don Verzee è stato un altro grande visionario che ci ha detto l'Africa è il frontiere della medicina io non voglio spostare come il PD su un altro terreno il tema ma intanto non possiamo consentire a scafisti assassini quelli sì di organizzare la possibile morte di disperati che gli danno migliaia di euro per rischiare la vita e su quello dobbiamo essere fermi tutti allora io sono democristiano e compromissorio mi farebbe piacere un compromesso tra ONG e governo ma la prima cosa che dobbiamo dire facciamo un compromesso per dire che gli scafisti sono degli assassini dei delinquenti ora risponde Casarini su questo però prima voglio sentire Caprarica ti faccio sentire ieri cosa ha detto Matteo Salvini sull'Europa peraltro perché poi insomma c'è questo convitato di pietra con cui la Meloni cerca di trattare ieri Salvini ha detto l'altro ad un po' ai vecchi toni di una volta guardate l'Europa si sveglia adesso o mi domando che senso abbia di esistere perché sta imponendo sacrifici agli italiani sulle auto sulla casa sulle tasse almeno sul controllo delle frontiere sulla protezione dei confini alle sicurezza degli italiani Bruxelles quei miliardi che l'Italia manda in Europa ogni anno dovrebbe finalmente darci una mano perché Lampedusa Trieste 20 miglia sono confini europei non sono confini italiani quindi qua c'è evidentemente un attacco della malavita in corso se l'Unione è un'Unione attendiamo un'aiuto perché l'Italia non può essere sola ad affrontare questo problema non ce lo possiamo permettere allora hai capito Antonio abbiamo un governo che cerca di trattare dice no il bicchiere è mezzo pieno e poi una Lega che torna ai toni di una volta cioè questa Europa latita ma sai se abbiamo cioè qui il ministro Salvini non è un leader della Lega è il vice presidente del governo italiano italiano ecco allora se il vice presidente del governo italiano ha dell'Europa l'idea di una specie di tassi che si prende quando fa comodo quando serve per il resto per cortesia non scocci dalle auto elettriche alle case all'ambiente l'Europa non ci deve disturbare noi abbiamo un governo che in Europa è impegnato in una serie di battaglie di retroguardia ed è un peccato perché tra l'altro essendo un paese il nostro molto sveglio avanzato sono terreni su cui potremmo invece avere un ruolo di primo piano invece siamo sempre lì a tirare a resistere è naturale che poi su temi che ci stanno più a cuore i nostri partner europei abbiano la stessa diffidenza e la stessa distanza che noi mostriamo rispetto ai temi che stanno a cuore al continente nel suo complesso non si può essere protagonisti a come dire a momenti non si può invocare l'Europa a seconda semplicemente della comodità ma in più è inutile che ci nascondiamo adesso io sono d'accordissimo con Casarini e con il suo appello perché quando si tratta di salvare vite questa è una priorità assoluta però sono due cose diverse salvare vite in mare e affrontare questa cosa gigantesca che è l'emigrazione io credo che già da quello che è stato detto questa mattina risulti con chiarezza una cosa assolutamente certa l'emigrazione è un fenomeno storico inarrestabile Sulla aveva ragione ma aveva torto quando diceva che non ci sarà posto per l'Africa in Europa e invece il punto vero è che come stiamo vedendo c'è posto c'è molto posto perché quando già molti anni fa tanti in Italia si diceva guardate che noi abbiamo bisogno dell'afflusso abbiamo bisogno per il nostro inverno demografico se vogliamo continuare a crescere se vogliamo continuare a guardare al futuro abbiamo bisogno dell'afflusso di gente nuova che arriva dal continente dove la gente che ha meno di 20 anni è la maggioranza assoluta degli abitanti quindi abbiamo bisogno di questo afflusso e i numeri che tu hai citato lo dimostrano ma invece che cosa avevamo di fronte i teorici della sostituzione etnica quando si diceva guardate che l'afflusso degli immigrati è una cosa buona e utile è utile al nostro paese a crescere e a rimanere sulla piazza la risposta era che c'era la sostituzione etnica che volevamo sostituire i bianchi cristiani con i neri musulmani questa è stata la risposta e purtroppo io adesso non lo dico per riaprire antiche polemiche però nelle cose che continua a dire Salvini è evidente che c'è sempre questo storace sta dicendo che è tre cose che scavravi che è vittima di faziosità che è in cancellabile scusi storace ma perché io sono fazioso è il ministro dei trasporti che dice che siamo di fronte all'attacco della malavita invece di cimentarsi col problema epocale dell'immigrazione invece non è fazioso scusi adesso ho ascoltato vorrei ci rispondiamo presentiamo anche Luciano perché fate il fatto piccolo dettaglio che ogni volta che parlate di Salvini sarà una mia fissazione questa ma ricordatevi che è sempre un signore che rischia 15 anni di galera per la tregua che voi volete e questo insomma non ho ancora sentito una parola Rodoni Casarini Caprarica il direttore io questa cosa secondo me dovrebbe essere oggetto di grande dibattito noi crediamo che la giustizia non ha fatto niente di male non prenderà quindi se non ha fatto niente di male con questo tipo di magistratura ma manco il processo ci doveva essere manco che è stato deciso a maggioranza dai senatori il processo ma non scherziamo su queste cose allora io voglio dire una cosa proprio su quello che stava dicendo Caprarica quali sono i toni che ha usato Salvini e alla vecchia lei che hai detto tu Mirta ragazzi questo ha detto una cosa semplice semplice noi stiamo in Europa e paghiamo il biglietto per la casa stiamo in Europa e paghiamo il biglietto per l'automobile quando chiediamo noi aiuto nessuno ci si fila e beh questo a che serve questa Europa ma che cos'è una parola così in distonia rispetto al sentire comune non credo tanto è vero che proprio la Meloni quando è andata al Consiglio Europeo però la Meloni è andata al Consiglio d'Europa cercando di trovare degli accordi ma io se si è fatto quell'incontro tra Gentiloni e il presidente tunesino è perché qualche italiano saggio ci è intervenuto quando si stava per cancellare dall'agenda questo incontro cioè l'Europa comincia a capire quello che diciamo da anni che bisogna aiutarli a casa loro e beh questo è un tema grande come una casa allora Andrea ci state a fare la moratoria delle polemiche tra maggioranza e opposizione perché ogni volta sento questo derby che mi dà molto fastidio di qua diciamo grande successo in Europa di là è tornata con un pugno di mosca in mano ma non si va avanti in nessuna parte così allora si tratta di unire questo paese in un grande patto proprio sull'immigrazione allora questa sarebbe una grande svolta se invece la partita la disfida tra il 10% di immigrati che arrivano attraverso le ONG e gli altri che salvano la guardia costiera è un derby che però non risolve nulla allora Luciano a proposito di derby appunto torno al tuo pezzo è tutta una grande querelle ideologia quasi sempre perché appunto si torna quasi sempre a chi siamo noi e chi siete voi perché poi mettiamo insieme questioni differenti molto differenti prima sentivo strepiti strelli nello studio di Coffee Break sulla maternità surrogata in realtà però è sempre più o meno la stessa cosa qui ci ricorda Caprarica signori qua parlavamo di sostituzione etnica io ho le mie orecchie la fece già un sindaco a Riasce la sostituzione etnica suggerirei di non prenderla perché quello è un esempio vero se facciamo un click day in cui vediamo se non è faziosità questa io rispetto la sua faziosità che ho sempre trovato anche stimolante ma se non è faziosità a sostituzione etnica abbia pazienza ma lui la condanna ce l'ha avuta ce l'ha avuta ho capito e allora chissà perché la magistratura che giudica il sindaco di Riasce è una magistratura indiscutibile quella che si occupa del ministro Salvini non va bene assolutamente così facciamo un attimo di chiarezza Mimmo Lucano ho avuto una sentenza di primo grado e non prostituzione etnica per dirlo Salvini è sotto processo ma non è stato dichiarato colpevole così ci pensiamo tutti tranquilli almeno non è che lo decide il senato se è colpevole il senato ha detto che dovevano processarlo e questo è il grande errore perché si è deciso a maggioranza che un signor deve andare al giudizio e questa è una schifezza è una schifezza sono 30 anni che il Parlamento non difende le sue prerogative quindi la lotta politica ormai si è trasferita nelle aule giudiziarie da 30 anni va bene Luciano è forse quel tuo fondo diciamo che è un po' come dire è romantico è romantico rispetto alla situazione italiana diciamo che è servito a poco o perlomeno sta servendo a poco in questa situazione però voglio andare al concreto un po' della discussione allora per quello che mi riguarda a me fa venire veramente l'urticaria questo modo di affrontare problemi seri storici epocali e ridurli alla battaglia delle parole a chi si mette nel metto è combattimento giorno per giorno questa è davvero una questione seria che riguarda come il paese questo governo che ripeto è un governo che ha una prospettiva di legislatura deve prendere deve prendere in mano lo deve prendere in mano con l'immigrazione tra l'altro verso l'Europa io vedo dei toni nella discussione dell'Europa che sono molto diversi ad esempio del governo che abbiamo avuto nel 2018 c'è un tentativo di porre i propri temi di discuterli di capire le ragioni degli altri e di fare alleanze il metodo della Meloni è quello di sedersi al tavolo e ragionare siamo in un'altra discussione poi su una discussione dell'auto elettrica se l'Italia vuole porre un tema che riguarda la diversificazione di quello che si deve fare io credo che sia anche ragionevole e giusto a vedere anche perché quello che ci riserverà la tecnologia nei prossimi anni non lo sappiamo così per l'immigrazione tenendo conto che noi abbiamo un enorme problema siamo il paese di frontiera dove arrivano gli altri paesi hanno un problema diverso che è quello dei cosiddetti movimenti secondari perché tantissimi di questi immigrati poi vanno negli altri paesi lo sappiamo lo sappiamo benissimo ed è quello che sul tavolo della discussione che si fa sull'immigrazione e si mette un'Europa allora se torniamo alla ragionevolezza significa che partire da alcuni punti fermi le persone in mare vanno salvate il bene l'appello al dialogo e alla cooperazione senza come dire senza creare confusione nei soccorsi e poi si comincino ad affrontare i temi strutturali quella della Tunisia cosa fa l'Europa e cosa fa il Fondo Monetario degli Stati Uniti è un tema strutturale altrimenti lì le persone non le fermerà nessuno quello dell'immigrazione dei canali legali è un tema strutturale come abbiamo visto dal Creek Day di ieri tre volte tanto in partenza dice Sarace ma sono lavori stagionali saltuali voglio dire però sono lavori legali credo che uno Stato serio deve avere tutte le capacità di far rispettare anche le proprie leggi e i propri contratti quindi quando finiscono questi lavori se sono stagionali torneranno nel loro paese tanti vengono pure dall'est Europa forse tornano volentieri io ricordo solo una cosa quando ero molto più giovane gli immigrati italiani erano i polacchi e gli albanesi dopodiché è finita l'immigrazione da quei paesi perché si è fatto e quei paesi sono cresciuti economicamente hanno dato disponibilità quindi il tema serio è vero cosa si fa per intervenire in quei paesi cosa si fa per un controllo giusto cosa si fa per i canali regolari di immigrazione se le altre sono discussioni serie per quello che riguarda la domanda di Storace è così chiudo su Salvini io penso che quel ministro era un ministro che stava facendo atti di governo che la battaglia politica va fatta politicamente non mi piace mai la battaglia politica trasferita nelle aule giudiziarie naturalmente in Italia c'è una magistratura che è un ordine separato e alla fine se c'è un processo io ho anche fiducia che quel processo andrà nel modo regolare e giusto e con le conclusioni che si dovranno trarre allora vediamo di capire a livello politico tutto questo dibattito poi cosa produce no perché poi naturalmente la dinamica maggioranza opposizione c'è certamente l'immigrazione è sempre stato un tema identitario per la destra anche poi è nato molti consensi una fase differente il paradosso è che invece oggi si trova lei a doverla gestire quindi sono le soluzioni da dare non è gridare allo scandalo perché ci sono troppi sbarchi vediamo non è accettabile che ci siano esseri umani che muoiono affogati per venire qua e noi questa situazione la dobbiamo risolvere attraverso gli accordi la guardia costiera contro le ONG dice che intralciano il nostro lavoro su questo io non rispondo arrivederci mentre continuano gli sbarchi record con le organizzazioni non governative nel mirino è proprio una ONG la Mediterranean Saving Humans inizia a scrivere la Meloni chiedendo di fermare questa guerra contro di loro e cooperare invece per salvare più vite possibili finché continuano a fare braccio e ferro contro lo Stato Italiano penso che sia l'atteggiamento sbagliato non ci vedo per ora l'interesse di voler collaborare o salvare i migranti ci vedo un interesse per loro ma il governo tira dritto e le opposizioni attaccano il vero problema è che non c'è un coordinamento nel Mediterraneo tra le forze che sono adibite al soccorso ed è quello che manca ed è quello su cui ha fallito la Meloni in Europa che non ha chiesto un progetto un programma di soccorso europeo nel Mediterraneo gli sbarchi sono quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso continuano a morire in mare tanti troppi profughi e il governo è tornato da Bruxelles a mani vuote ed è la linea ripetuta dalla stessa neosegretaria del PD Elis Schlein che ieri ha incontrato per la prima volta i gruppi parlamentari che oggi eleggeranno i nuovi presidenti non senza qualche frizione interna immagino la segretaria voglia tenere insieme una comunità che ha fatto del pluralismo della struttura di governo o dei tratti tipici qualsiasi corrente a me fa venire l'orticale si hanno fatto tanto male del passato nel passato è guai a pensare che si possono riproporre neocorrentine oppure da parte di nessuno quali rumori sottotraccia che potrebbero esplodere nella scelta della nuova segreteria stiamo lavorando affinché si possa trovare un assetto complessivo di questa nuova e positiva fase del partito democratico che sia un assetto equilibrato rispettoso naturalmente del suo pluralismo interno ma anche dell'esito del congresso della linea politica che ha vinto quel congresso scusi Rodoni ma lei si intende molto di politica ma non c'è secondo lei anche una dinamica interna al governo che conta in tutto questo nel senso che mentre Rameloni era partita con il blocco navale e invece adesso va in Europa a fare riunioni a cercare di trovare soluzioni concrete perché sarà pure il puglio di mosca ma lei ha fatto tutto quello che poteva per porre questa questione con grande forza ha avuto un riavvicinamento con Macron cioè io vedo uno sforzo reale da parte della premia e forse però è la Lega che invece in questo momento ha voglia di lucrare su questo tema e Salvini che ricordano i due per tre che con lui e con i porti chiusi è stato il minimo di sbarchi nella storia cioè c'è anche qualcosa che riguarda una dinamica interna alla maggioranza ma questo è un governo di coalizione non è un monocolore nemmeno la lista di Fratelli d'Italia è un monocolore io rappresento la componente democristiana e faccio parte di quel gruppo il presidente il mio partito che si chiama Verde Popolare e si richiama alla democrazia cristiana è stato presente nelle liste di Fratelli d'Italia quindi voglio dire il presidente del consiglio non rappresenta la destra nemmeno il suo gruppo parlamentare è solo la destra e tante cose perché la bravura di Giorgia Meloni è stata quella di rappresentare nuovamente una leadership di sintesi quale è stata quella di Silvio Berlusconi e quindi è normale che ci siano sensibilità diverse battaglie identitarie che caratterizzano le forze politiche che fanno parte della coalizione il tema dei migranti è sicuramente molto caro alla Lega e così come Forza Italia abbatte sulla giustizia sulla riforma fiscale e il presidente del consiglio fa valere nel governo e in Europa i temi su cui fa sintesi ma ce l'abbiamo la bella casinieri sulla Meloni diceva il mio professore di scienze politiche che in politica esiste la destra e la sinistra e il governo è sempre democristiano allora ieri è venuto Casini lo conosce lei Casini no? avete le stesse origini più o meno come no ecco è arrivato qui in studio abbiamo fatto una bellissima manifestazione assieme il ricordo di Gerardo Bianco ricordando quando nella DC infatti io mi sono immaginata quando Casini ha titolato il libro per leggere liberamente i capigruppo che oggi come vede anche nel PD vengono fatti con lettera di licenziamento allora la cosa stupenda è che Casini ha scritto un libro che si chiama L'ultimo democristiano io mi sono immaginata la faccia di Rotondi quando ha letto che il libro di Casini si chiama L'ultimo democristiano eh no ha ragione lui ha qualche legislatura più di me ah ecco è quello è quello è l'anziarietà conta l'anziarietà sentiamolo un momento sulla Meloni perché così sentiamo anche storace su questo tutti hanno festeggiato Berlusconi dico dovete festeggiare me che sono scambato a tutti i neufraggi di prima, seconda e terza repubblica allora ieri abbiamo parlato di Giorgio Meloni con Casini e Casini ci ha riportato ad un'altra epoca in cui invece nella Fratelli d'Italia non c'era la componente democristiana però nella alleanza nazionale allora c'era storace giusto? quindi altre epoche storiche guardate c'è un fatto io credo che quando Gianfranco Fini a Fiuggi fece la svolta dicendo il fascismo è stato il male assoluto e ho la sensazione che con revisionismo siamo un po' tornati indietro invece che andare avanti si è un po' rimossa secondo me anche la svolta di Fini o perlomeno non dico che sia rimossa io credo che la Meloni dovrebbe in qualche modo fare anche un monumento a Fini perché con quella svolta poteva ripartire da lì in fondo la Meloni dovrebbe andare avanti o oltre lì non indietro oltre lì è una critica non da poco andare avanti da quello che ha fatto Fini si va indietro non sarà un caso che in Fratelli d'Italia c'è Rotondi non ci sono io tanto per dirla chiara con grande rispetto lo dico per la Meloni un po' anacquata a destra no no però insomma a Meloni fa bene il premier non c'è dubbio la critica di Casini è il contrario è uno smemorato perché Fini quelle cose non le disse al congresso di Fiuggi l'avremmo linciato probabilmente le disse in Israele in Israele davanti al museo dell'olocausto un ambiente emotivamente persuasore diciamo così no anche io sono stato lì quindi cosa vuol dire quel tipo di clima che c'è attorno a quello straordinario momento però c'entrano poco queste cose con la situazione che stiamo vivendo perché non si può dire Gianfranco io con l'amicizia che conosci la Lega è più sensibile sull'immigrazione Blocco Navale non l'ha proposto la Lega ha proposto la Meloni detto questo nemmeno io si può fare una colpa perché vedete quando si dice appunto i numeri è quadruplicato si è usata la parola ha fatto caserina la parola strage per Cutro per me è una grande tragedia la strage è una cosa che qualcuno decide di fare e io mi rifiuto di pensare che qualcuno abbia deciso di ammazzare quella gente cioè qui un cambiamento la Meloni aveva chiesto perché Fontana diceva la guerra delle parole non è guerra delle parole sono concetti vivi che ci sono nel dibattito la Meloni all'opposizione è paroledista che andava incriminato Renzi per strage di Stato quando ci fu la grande strage di Rampedusa ma il tema che si solleva oggi è finirla col derby noi siamo bravi e no voi siete cattivi questa è la questione che penso che anche Fontana con quel famoso fondo affatto dimenticato abbia voluto pure l'attenzione del dibattito politico e della società italiana ora noi quando vedo quei numeri non è un caso che poi sono diventati 24.000 25.000 mentre l'anno scorso possono essere 5.000 6.000 7.000 ecco allora ma perché adesso la Meloni è quella dei porti aperti non credo e c'è un assedio a questo nostro paese non è un assedio non l'ho visto è quello che cercava di dire Caprarica non l'ho visto non riusciremo a non far partire perché è gente che è disperata però prima di far di sentire Caprarica il concetto è non ho visto giornali scandalizzati ad esempio contro la Grecia quando quel battello è passato davanti a loro poste personalmente ho detto molte volte ho capito però non ho visto questa campagna perché lì è uno dei casi in cui ci lasciano soli la Grecia si può permettere di lasciarli andare via Malta quante volte manda via i migranti noi ce li dobbiamo caricare tutti è un problema o no? mi sono molto informata su questa cosa perché anche me mi aveva colpito dormimento tu passi davanti a tutte le coste greche il problema è venire a sbarcare da noi mi hanno spiegato che i migranti non ci vogliono andare lì perché mentre da noi arrivare in Germania gli scafisti non ci vogliono andare non i migranti i trafficanti non ce li vogliono portare Antonio prego no ma non è questione di derby sinceramente non è questione di derby lo vediamo anche nella discussione mi pare civilissima di questa mattina per quanto giustamente calda e appassionata diciamo non è questione di derby perché è questione di diversa visione del mondo e allora ha ragione Storace quando dice ad esempio ma è la Grecia è Malta ma questo può impattare sulle nostre decisioni di salvare vite cioè la Grecia e Malta noi la denunciamo non è vero che i giornali non denunciano questo atteggiamento non è vero che ci sia silenzio su appunto le inadempienze di altri paesi europei ma questo può giustificare le nostre questo può metterci nella condizione di non salvare vite no dobbiamo essere fieri di quell'esempio di civiltà alla fine dei conti che rappresentiamo nel Mediterraneo e che significa anche salvare tutte le vite che sono a rischio in queste acque da qui partiamo quindi bisogna smettere di attaccare la Guardia Agostiera ad esempio se il ministro dei trasporti nonché vice premier continua a dire che anzi ripropone la cancellazione dei corsi in italiano ma scusate abbiamo detto che uno dei problemi è di giusto per esempio scusate aggiungo una piccola cosa mi è appena arrivata un'agenzia che la Lega con il suo emendamento sta provando a tornare diciamo all'era giallo-verde cancellando la produzione umanitaria a che senso c'ha la produzione umanitaria non è che non sbarcano più se la cancelliamo io faccio fatica a mettere in fila le cose questo è il problema è demagogia è demagogia è demagogia allo stato puro che naturalmente serve moltissimo alla Lega in una battaglia questo è evidente insomma lì in studio hai due vecchi esperti comandanti di sommergibili politici allora sanno perfettamente che sotto le acque del governo c'è c'è uno scontro di sommergibili uno scontro sotterraneo in cui la Lega naturalmente cerca di sganciare quanti più si duri può all'indirizzo di Giorgia Meloni che non ha solamente una maggiore capacità di sintesi questo è il delirio proprio la Lega è alleata con la Meloni non è contro la Meloni capiamolo questo una volta per tutte la Lega sarà alleata con la Meloni ma ogni giorno abbiamo una Lega che ogni giorno su ogni questione riesce a mettere che marca il suo punto allora francamente non mi sembra che questa per carità io sono d'accordo sul fatto che questo è un governo che dura cinque anni ma non vuol dire che è un governo che dura cinque anni non ci sarà una guerriglia quotidiana della Lega per segnare dei punti come fa su questo punto dell'immigrazione ma se noi siamo di fronte a un fenomeno che tutti siamo d'accordo che diciamo che è epocale Rotondi giustamente addirittura ricorda Fiorentino Sullo e che cosa dice il vice premier del governo italiano che siamo di fronte all'attacco della malavita che bisogna cancellare la protezione umanitaria e cancellare i corsi di italiano per quelli che sono riusciti ad arrivare in Italia così invece di avere dei nuovi cittadini italiani abbiamo dei nuovi emarginati alla stazione Termi c'è una logica in questo? Allora fermiamoci un momento devo andare in pubblicità è meglio la pubblicità però poi non so se voi vi ricordate immagino che Luciano o a me se lo ricordi uscendo dal giuramento al Quirinale il ministro Nord aveva detto bisogna depenalizzare perché questo è un paese in cui ci sono tutto diventa penale e non ha senso ebbene ci siamo accorti che invece in questa fase continuiamo a creare per legge nuovi reati quindi adesso ripartiamo da quello pubblicità Abbiamo delle idee molto diverse anche perché la velocizzazione della giustizia transita attraverso una forte depenalizzazione quindi una riduzione dei reati È il giorno del giuramento sul piazzale del Colle il ministro Nord presenta il suo piano garantista per la giustizia Ma basta un reparti in un capannone di Modena ad agitare la rotta Il primo consiglio dei ministri dell'era Meloni introduce un nuovo reato Abbiamo quindi strutturato questo intervento normativo che prevede la fattispesa specifica delle invasioni di terreni ed edifici finalizzati a raduni di oltre 50 persone Le emergenze reali o percepite hanno sin da subito ispirato il ricorso all'introduzione di norme penali ad hoc o all'inasprimento delle sanzioni Orientativamente sarà un quadro di regole a cui assoggetteremo l'eventuale iniziativa di questi organismi privati alla violazione dei quali fare scattare delle sanzioni più efficaci Se il decreto ONG ha inteso regolare l'azione di salvataggio delle navi attraverso sanzioni amministrative è col decreto Cutro approvato dopo l'ultima tragedia che il governo ricorre di nuovo al diritto penale Il decreto prevede un aumento delle pene per il traffico di migranti ma prevede soprattutto l'introduzione di una nuova fattispecie di reato quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terrano Repressione anche per le donne incinte o con bambini piccoli e reati universali i buoni propositi di Nordio finiscono nel cassetto dopo il reato che punisce gli scafisti si apre il cantiere per punire chi va all'estero per la maternità surrogata Si tratta di mercificare la vita umana sicuramente è un reato grave più grave della pedofilia Cinque mesi dal giuramento e l'elenco di reati si allunga invece di ridursi l'ultima proposta di Fratelli d'Italia in ordine di tempo è in tema di anoressia Noi vogliamo venire incontro alle gravi problemi che incontrano queste persone con questo disegno di legge che combatte coloro che in modo veramente riprovevole spingono ragazzi e ragazze verso queste pratiche Luciano hai capito? Ogni giorno la sua penna si dice nel proverbio in realtà ogni giorno c'è un reato nuovo ma ha senso per affrontare i problemi che per carità esistono trovare reati nuovi o forse in alcuni casi basterebbe come dire usare gli strumenti che abbiamo ma io penso voglio dare una risposta veramente rapida io penso che l'introduzione di nuovi reati in asprimenti delle penne sia un modo per come dire anche questo per piantare una bandiera più che per risolvere una questione io credo che nel codice ci siano tutti gli strumenti per perseguire i reati di cui abbiamo parlato nel servizio ma il problema della giustizia italiana non è tanto sbandierare pene e nuovi reati ma essere rapida ed efficace efficace e rapidità sono la cosa più importante per chi chiede giustizia e non tanto diciamo un accumulo di norme reati e nuove procedure che rendono tutto più complicato il problema dell'italiano è l'assenza della giustizia non tanto crearne nuove occasioni c'è qualcosa che riaffiora nel DNA della destra forse questa idea sicuritaria nuovi reati nuove pene mi ha colpito il concetto di rapidità ed efficacia io per contare sulla giustizia ho rinunciato più volte alla prescrizione tanto per intenderci e arrivare sempre alla soluzione è evidente che il tema dell'efficacia c'è tutto però non bisogna nemmeno dimenticare quello che nel frattempo sta accadendo è vero ci sono nuovi reati ma il mese scorso la Casellati ha mostrato pubblicamente mille reggi che sono state abrogate cioè ci sono anche queste cose nell'ordinamento è la mia vecchia fissazione anche questa durante i tempi della regione io non vedevo l'ora che si abrogassero le norme non che si introducessero perché se vogliamo questo è il maggior favore che si fa alla magistratura che si dice talvolta basta basta troppi poteri se fai più leggi avranno più potere si ricorda che la chiamavano Eppuretor mi è venuto in mente quindi imbocchiando ci si modera e anche per far dare una gioia a Caprari che lo faccia diciamo che dice lei Rodondi che per me lei non è contento di stare come Eppuretor Storace è stato molto clemente rispetto a tutto che poi a me fa ridere che ogni volta che cambia una maggioranza un governo vogliono epurare la RAI ma dalla prima alla seconda alla terza repubblica mi sembra naturale che nel servizio pubblico alcune scelte risentano del cambio degli equilibri ma l'Italia è fatta così per cui Storace era diventato la bestia nera di una prassi che è avvenuta in tutte le repubbliche e lui lo faceva devo dire adesso che non fa più politica con un garbo e un equilibrio che oggi sarebbero esemplari a proposito mi hai sentito Antonio che ha detto San Giuliano pensare al fatto che escono partiti dalla RAI è più facile pensare che c'è vita su Marte siamo arrivati lì sì sì ormai è andato ma la cosa la cosa tragica del nostro paese è che non solo diciamo facciamo delle cose indicibili ma poi le troviamo le normalizziamo le troviamo accettabili le troviamo normali dopo tutto che male c'è e quindi se qualcuno ha commentato malignamente ma non condivido questa battuta che San Giuliano questa cosa la conosce bene diciamo visto che è stato direttore in quota di diversi partiti insomma è evidentemente un espetto vuol dire che è bravo ci sta dando in diretta la conferma che il direttore San Giuliano era bravo era bravo era rotondi a ragione era così bravo che appunto attraverso diverse sigle ha affermato la sua professionalità la tragedia erano le diverse sigle la sua bravura è come quelli che si aggambiano con me perché ho fatto sette leggisolature ho trovato sempre chi mi ha votato ai tempi del vecchio Biagio Agnes c'era una lottizzazione dichiarata riconosciuta diciamo e Agnes diceva sempre che doveva prendere un democristiano un comunista e uno bravo ma ricordo anche una battuta certe volte capitava che il bravo coincidesse anche con la tessera politica che sarebbe idiotico sostenere il contrario cioè sostenere che siccome uno ha una tessera politica ha qualità professionale però scusa no per finire il concetto la questione fondamentale è molto semplice è vero che c'è forse vita su Marte ma i partiti non usciranno mai dalla Rai finché la governance della Rai è questa qui io fui convocato quando dirigevo il giornale radio fui convocato dalla vigilanza che mi fece l'esame e io risposi alla vigilanza che avevamo rovesciato le regole della democrazia perché in qualsiasi democrazia è il giornalismo che fa il cane da guardia dell'istituzione e non viceversa purtroppo finché non rimaniamo dell'idea che il proprietario della Rai è la vigilanza vedo che sto raccio è d'accordo che debba essere la vigilanza allora ci teniamo la Rai che è la Rai che a un certo punto c'è un sacco di giornalisti possiamo parlarne sia io che Luciano Fontana che non hanno nessun rapporto con la politica che fanno il loro mestiere punto e basta cioè così deve essere quindi non è che stiamo sognando succede? no ma non è vero quello che dice Caprani sicuramente nel servizio pubblico stavi chiedendo una cosa no voglio sapere tweet però perché sono in ritardo e pure Etor che ne pensa? e pure Etor che ne pensa il nuovo assetto cioè di quello che vuol fare il governo il Rai attendo che lo faccia attendo che lo faccia perché non vedo ancora cambiamenti e pure Etor parla dopo ci sono tante professionalità che potrebbero essere utilizzate perché uno di destra non può stare alla Rai? e chi l'ha detto? trovatemeli trovatemeli ce ne saranno due o tre due o tre sono tutti Caprarica sono tutti Caprarica uno è diventato ministro ma uno è diventato addirittura ministro ma come non può stare alla Rai? Caprarica prima non ha ascoltato che ti ho detto devo chiudere una fra l'isce dico Badalori e Marrazzo come avversari quindi non è vero che la sinistra insomma la politica non l'ha guardata no ma infatti ma io sono d'accordo ma tutti d'accordo io non sto dicendo le politiche non sono mai piaciute però devo chiudere una battuta io perché se la Rai fossero tutti Caprarica staremmo messi molto bene mi posso garantire che è bello bravo Caprarica bello bravo condivido il giudizio e comunque devo dire che la sola cultura sparita dalla Rai è quella democristiana non ci siamo più nei Tg manca una parola però lei si deve acquietare lei è un fratello d'Italia adesso dove c'è la democrazia cristiana piaccia o no voi cercate la fiamma e trovate lo scudo cruciato devo andare in pubblicità che vuoi dire una cosa da Luciano non ho capito Luciano sto chiudendo vuoi dire una cosa? no no solo una battuta ricordate Guzzanti quando dice c'è vita su Marte solo il sabato sera quindi se ci fosse un sabato sera anche per la Rai è la bovita bene ottimo finale vedo pronto Fausto Bertinotti sul suo divano rosso però con bordo nero questo è interessante ora ci ragioniamo pubblicità buongiorno allora eccoci qua il presidente Bertinotti pronto per noi Adriana Bellini con le ultime notizie Adriana ciao Mirta buongiorno allora c'è il consiglio dei ministri previsto a Parazzo Chigi all'ero 17 con sul tavolo le proroghe o meno delle misure già messe in atto per mitigare caro bollette luce e gas poi ci sono gli accordi importanti i primi a Bruxelles in merito alle auto elettriche c'è la Francia continuano con forti tensioni le proteste contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron mentre invece c'è un calo della tensione in Israele dopo la sospensione da parte di Netanyahu della riforma sulla giustizia parleremo anche di Ucraina anche qui continuano altissime le minacce da parte di Mosca che adesso in particolare tramite il portavoce Pieskov attacca la Germania che dice di essere in prima linea nella guerra appunto in Ucraina tante notizie Mirta ti ridò subito la linea grazie allora presidente Bertinotti buongiorno ben trovato ho notato che non solo il divano è rosso nero ma anche il libro che lei ha appena dato alle stampe la dissoluzione della democrazia è rosso nero ho tre possibilità una un riavvicinamento al governo la seconda la sua fede pazzesca milanista la terza è invece l'anarchia perché quello era il colore degli anarchici il rosso nero scarti la prima a scarto la prima ok le altre due vanno bene tutte e due le altre due le altre due sono accettabili accettabili va bene allora vediamo un po' alle cose successi io partirei da alcune parole che hanno riempito la cronaca dei giornali anche la nostra trasmissione televisiva in questi giorni la prima ONG la guerra l'ONG che è in mare anche contro le leggi dello Stato perché per esempio nel caso della nave di Bansky ci sono due regole che ha infranto la prima è andare nel porto deciso dallo Stato italiano non in quello che decidi tu e la seconda è fare un unico salvataggio in mare non due beh comunque fatto sta che hanno il governo ne parla ormai come di un grande problema di un grande intraccio e persino la guardia costiera fa un comunicato stampa durissimo in cui dice abbiamo salvato vite in mare ben 3.300 vite nonostante le intrusioni delle ONG che creano un gran caos anche nella richiesta di soccorsi che ne pensa? Tutto il male è possibile perché veramente siamo a un'altra tappa francamente per me un po' disdicevole di questa sistematica aggressione alle ONG che dura ormai da tanto tempo uno stracismo e al fondo c'è proprio un'idea radicalmente sbagliata cioè quella secondo la quale le azioni di volontariato di solidarietà che vengono promosse dalla società civile fuori dagli interventi dello Stato siano pericolose perché non controllabili cioè c'è una mancanza totale di fiducia nella buona fede e nella generosità di chi presta la sua opera in questo caso per salvare vite umane questa cosa già grave lo è ancora di più perché è una supplenza quello che le ONG fanno della mancanza di una strategia e di un impegno che è clamorosamente evidente per l'Europa ma scusate noi siamo di fronte a una in questi giorni a una crescita esponenziale di questa drammatica presenza in mare di persone che fuggono per disperazione o per speranza dai luoghi dove stanno in questa condizione lei vede un'azione politica economica sociale dell'Europa forte in modo tale da contenere e soluzionare queste domande però la cosa che voglio chiederle io è questa la guardia costiera che nessuno di noi può pensare che un organismo che di parte o che faccia politica no che anzi io credo che dobbiamo tutti noi considerare invece come un corpo dello Stato straordinario che ha salvato a sua volta migliaia di vite e dice in quel comunicato che mi ha molto colpito che l'azione dell'NG in qualche modo complica e ritarda la loro capacità di agire guardi io inviterei ad ascoltare non dico tutte le mattine ma qualche mattina i servizi che su Radio Radicale vengono fatti da chi è lì da chi è in mare o prossimo al mare e osserva le situazioni e ascolta la Guardia Costiera e le ONG le ascolta facciamo una prova ascoltiamo per una mattina il servizio che viene fatta sui comportamenti reali e vedrà che sono un inno alle ONG purtroppo limitate da una serie di vincoli che impediscono loro di fare quello che potrebbero anche meglio fare per ciò che riguarda la Guardia Costiera io ovviamente mi unisco al suo rispetto tuttavia vorrei farle notare che in ogni organismo statale l'influenza della politica si esercita in maniera rilevante e dunque se il clima si inasprisce se il clima diventa quello secondo la formula di Foucault di sorvegliare e punire non c'è nessuno che riesca a sottrarsi del tutto ci vuole una coscienza civile che sia in grado invece di fare l'operazione contraria cioè di ripristinare la verità e soprattutto di aiutare chi già sta aiutando coloro che soffrono senta sentito Salvini ieri che dice l'Europa ci lascia soli siamo in predato un attacco della malavita l'Europa ci chiede continuamente i compitini o le tasse dalle auto elettriche in giù e invece su questo grande tema che è il fatto che noi siamo appunto sotto assedio non si muove intanto possiamo constatare questo diciamo nell'andamento sinusoidale della posizione del ministro Salvini sull'Europa adesso diciamo siamo nel picco dell'avversità qualche settimana fa invece eravamo a beneficio di inventario ma non fa niente intanto attacco della malavita e se tra questa malavita ci fossero le organizzazioni come quelle per esempio in Libia che noi abbiamo favorito e finanziato e che sono installati anche nel governo libico come ce la caviamo e poi infine la critica all'Europa deve essere puntuale perché è più forte e più radicale è vero l'Europa è di fronte al suo fallimento nel rapporto tra il nord e il sud del mondo e in particolare nel Mediterraneo nel Mediterraneo ci sono tante presenze tranne una quella dell'Europa ora io provo a chiedere a chi ci vede e ci ascolta ma se noi fossimo a vivere in un paese del centro Africa attraversata dalla mancanza di acqua a volte dalla mancanza di cibo e vedessimo queste scene di respinti di nostri fratelli mentre cercano di trovare una salvezza che anche noi agogneremmo io faccio una domanda capitale ma cosa questo sud deve pensare di questo nord secondo voi cosa pensa oggi un giovane africano di fronte a queste scene di mare dell'Europa è possibile che non avvertiamo che noi rischiamo di andare così in quel capitolo drammatico della terza guerra mondiale a pezzi a un conflitto devastante tra il sud e il nord del mondo come si fa a non vedere una cosa che si approssima con questa gravità e con questa drammaticità noi rischiamo ma guardate lo si vede persino sulla questione della guerra anche qui perché c'è questa differenza così totale tra le posizioni dei governi occidentali e dei governi di tre quarti della parte del mondo che stanno a est e a sud non c'è dubbio come si fa a non cogliere il punto drammatico che si sta approssimando a noi quello di uno scontro tra il sud e il nord del mondo e allora qui Salvini farebbe bene a posizionare la sua critica non sulle cose così di folclore ma invece sulla mancanza di una politica strategica non ha voce senta torniamo altre due parole che mi hanno colpito che sono rientrate nel dibattito uno è tortura e l'altro è carceri perché perché da un lato il governo ha detto che vorrebbe abolire il reato di tortura che in Italia è arrivato come lei sa molto tardi nel 2017 ieri c'era qui con me Ilaria Cucchi che mi diceva per esempio come nel caso di suo fratello ci fosse stato prima quel reato il processo sarebbe stato più semplice più veloce quindi insomma una cosa a cui siamo arrivati anche a seguito di una serie di eventi compreso il famoso G8 di Genova che lei ben conosce essendo stato tra quelli che insomma avevano molte persone lì in quei giorni che cosa pensa lei le fa paura questa idea o invece perché viene motivato dal governo ovviamente dicono in questo momento la polizia ha degli armi davvero spuntate le forze dell'ordine sono praticamente hanno le mani legate francamente ci sono le argomentazioni ormai che lasciano stupefatti allora io c'ero a Genova e non ho bisogno di ripeterle l'analisi di quel atto criminoso compiuto ai danni dai manifestanti nella sentenza che condannò sebbene parzialmente i colpevoli si disse che si era esercitata la tortura ma non potevano essere colpiti da una sentenza perché l'attesato di tortura non c'era nell'ordinamento italiano esatto come lei ha detto giustamente tardivamente è stato introdotto bene io penso che non c'è nessuna giustificazione di stato delle condizioni di lotta di conflitto che possa giustificare la omissione della denuncia della tortura altrimenti noi diventeremo non solo vicini ma corresponsabili a quei paesi del mondo che non condannano la tortura per poterla continuare a praticare al riparo dalle leggi e al riparo dalla visibilità nei confronti di persone che non si possono difendere io penso che come la pena di morte la tortura prego volevo arrivare ad un altro tema perché non abbiamo tutto questo tempo se no poi mi perdo dei pezzi le carceri perché si è parlato di questo tema delle madri o donne incinte in carcere in realtà parliamo di una cosa molto piccola in Italia in questo momento 23 madri detenute con 26 bambini ma ci sono pur sempre 6 bambini sotto i 6 anni che oggi vivono in carcere ebbene anche qui si pensa che sia stata forzata la legge del PD che voleva arrivare all'idea che le donne con bambini piccoli incinte non potessero entrare dentro un carcere ma solo in strutture parallele perché c'è tutto un grande tema che riguarda alcuni piccoli reati tipo il signore che borseggia in metropolitana in cui si sa che molte di queste donne usano o a loro essere incinte o addirittura bambini piccoli per continuare a delinquere che ne pensa io penso che sia davvero un deficit di cultura politica e di capacità di azione ogni volta che si trova di fronte a un problema complesso scegliere la scorciatoia di condannare punire con un intervento che invece della politica fa appello alla magistratura e alla polizia è una manifestazione di impotenza della politica lei ha citato un caso effettivamente complesso certo che è complesso ma quel caso va risolto sul terreno della civiltà giuridica non sul terreno dell'abbruttimento di uno Stato che diventa come dire colpevole di mancanza di umanità qual è la priorità? La priorità è che un bambino o una bambina costretta a crescere in carcere costituisce una ferita alla nostra sensibilità civile e democratica questa è la priorità ci sono dei problemi che ho messo all'inquinamento e per quale ragione devono pagare i bambini piccoli che stanno in carcere invece che coloro che borseggiano lo Stato cerchi di far male il problema esiste ma non la soluzione è sbagliata chiarissimo esattamente è così esattamente ma guardi che questa è la cultura di governo ogni volta che si trova di fronte a un problema complesso invece di affrontarlo scegli la scorciatoia di aumentare i reati e punire ma questa è la dimostrazione che questo governo non ha fiducia nella politica ecco infatti questo poi è il grande tema del suo libro lei dice che sostanzialmente c'è stata la morte della politica e questa di fatto viene sempre sostituita da soluzioni tecnico-oligarchiche o col governo tecnico o anche con una piccola elite che si prende in mano il potere e lo esercita un po' come gli pare e la politica diventa muta ma veniamo ad un'altra cosa che mi sta a cuore perché è molto tornato anche nel dibattito la parola famiglia famiglia perché tutta la storia delle famiglie omoparentali omogenitoriali quindi famiglie arcobaleno famiglie composte da due persone omosessuali che cosa ne pensa perché anche qua insomma la sinistra si Pdl-ishline ha deciso di fare una battaglia senza confini su questo e poi tutto un mondo anche tutta l'anima cattolica che nella nostra società è molto presente che dice ma così in effetti è un sotterfugio per far passare una cosa orribile che peraltro l'Italia è reato dicono quelli che tipo a roccella e cioè la pratica dell'utero in affitto che è vero che non si può fare ma se poi questi bambini in Italia vengono considerati figli a tutti gli effetti di quei due genitori vuol dire che noi la stiamo facendo passare sotto traccia siamo nello stesso ordine di problemi della risposta alla domanda precedente tuttavia mi permetta di dire non in questa trasmissione ma non omettiamo che anche queste mancate risposte sono figlie della crisi della democrazia non è un cortocircuito inventato in Francia di fronte a questo straordinario movimento ormai molti studiosi francesi compresi saggi scritti su Le Monde dicono che è la fine del regime perché questo regime ha pensato di governare uso la parola francese senza la strada cioè senza il popolo e questa mancanza di popolo lo si vede anche sul tema che noi stiamo affrontando noi abbiamo avuto un'evoluzione nelle culture del paese su questo terreno prima parlavamo delle carcere lei pensi che noi abbiamo avuto un riformatore come Gozzini e noi oggi stiamo arretrati di secoli rispetto a quella frontiera sulla famiglia faticosamente in Italia anche per le nostre tradizioni anche per le tradizioni popolari noi abbiamo faticato a mettere a frutto le culture che il femminismo ci ha proposto in forma limpidissima cioè la critica alla famiglia patriarcale anche la famiglia va aggettivata come 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 lo Stato c'è una famiglia tukur dice lei c'è uno Stato autoritario c'è esattamente c'è una famiglia e infatti ma c'è anche l'influsso della religione c'è la famiglia islamica e c'è la famiglia cristiana e c'è la famiglia laica allora questa idea invece di assolutizzare le chiedo una cosa Pausto Bertinotti come la pensa perché io conosco bene la sua vita lei la sua storia anche insomma proprio personale un amore durato tutta la vita con Lella lei questa storia della gestazione per altri come la considera ha fatto bene la sinistra schierarsi o anche a lei crea un problema personalmente no ma il problema c'è vede torniamo sempre lì il problema c'è ma noi scegliamo una soluzione draconiana che taglia il problema o proviamo ad affrontarlo nella sua evoluzione io sono quello che contro personalmente personalmente naturalmente sempre con molta modestia quando si parla di problemi che riguardano la vita delle persone però personalmente sono contro quello che si chiama volgarmente l'utero in affitto personalmente sono contrario tuttavia cerco di capire anche le ragioni di chi si spinge su questa strada così irta e conosco delle persone che l'hanno fatto in totale limpidità buona fede e cura della persona a cui si sono rivolto ma resto contrario per cui non ho obiezioni alla legge italiana che la condanna ma il bambino di nuovo come nel carcere costituisce al mio sguardo una priorità assoluta tutto tutto viene dopo anche ciò che è culturale che è ideologico che è soggettivo che è diritto che è diritto viene dopo c'è la figura più debole è il bambino la bambina e questa figura va tutelata chiarissimo non si può dire siccome tutelo questa figura allora giustifico no non giustifico affatto tanto è vero che la legge italiana non lo prevede molto chiaro poi vogliamo metterci sul terreno della interna grazie allora io devo andare in pubblicità siamo un po' in ritardo ma sono sempre molto contenta di discutere con lei vado in pubblicità vedo che è già pronto per noi un signore che mi incuriosisce molto che è il re del Barolo e perché? perché questo signore che coltiva le sue vigne per fare questo vino strepitoso che tutto il mondo ci invidia e ci compra perché grazie a Dio ci dice che lui se non riesce a prendere lavoratori immigrati perché questo click day è stato molto piccino diciamo così per essere gentili non va avanti e rischia che le sue terre meravigliose diventino sabbia pubblicità e parliamo con lui il collocamento di Portogruaro dopo un anno c'è arrivata la richiesta di un candidato ci manca la risorsa più importante che è il capitale umano dovremmo avere almeno altre due persone in produzione e due in ufficio tecnico non percepiamo l'interesse a voler lavorare la gente preferisce starsene a casa ed è inutile che si dice ma perché vengono pagati poco basta io pagavo una mia dipendente 1650 euro quando parliamo di lavori stagionali e Vito e Loggio viene incluso devo chiedere anche a miei figli di venirci a aiutare perché altrimenti l'azienda chiude mi ha detto signora se lei mi dà più di 1200 euro io posso valutare non c'è disponibilità a voler essere il cantiere a un certo orario e le ferie poi i giorni altrimenti sto a casa al caldo sul divano perché ne prendo 1200 di disoccupazione nel tempo abbiamo perso diciamo la tradizione abbiamo il deserto pensare allo straniero a me sta bene ma con quale prospettiva allora eccoci qua è arrivata Annalisa Chiedico in studio ringrazio e la saluto è arrivato Ettore Liccheri Movimento 5 Stelle è arrivato anche Alat Friedman vi parlavo di questo signore straordinario che è il re del barolo italiano è un contadino produttore che da più di 60 anni si dedica anima e corpo alla produzione di questo che è davvero un oro rosso il nostro barolo e però arriviamo al punto dovevamo partire oggi cioè decreto flussi 83 mila posti disponibili e però già dopo un'ora un'ora da quando si apre il click day 240 mila richieste degli imprenditori c'è qualcosa che non quadra in realtà perché appunto se c'è questa grande necessità di mano d'opera di persone che lavorino non si capisce perché i flussi sono così piccoli anche perché gli imprenditori sono tutti almeno molti sono arrabbiatissimi tra cui anche Bruno Ceretto salve Bruno ben trovato piacere di conoscerla buongiorno Mirka buongiorno allora Bruno mi dica un po' che cosa succede lei di quanti lavoratori ha bisogno diciamo quanti riesce a trovarne e di quanti ne ha bisogno ma io premetto che sono ad Alba quindi la città della Nutella che sono quelli che oltre alla Nutella hanno inventato anche i pullman andarli a prendere a casa a 50 km di distanza per i tre turni giornalieri quindi già dalla fine degli anni 50 c'era questa scarsità l'agricoltura era completamente trascurata perché non creava ricchezza Alba è diventata importante per le sue industrie naturalmente la Ferrero la Miroglio la Mondo Rubber insomma noi abbiamo sempre avuto difficoltà soprattutto quando abbiamo cominciato a crescere nel mondo come immagine come per la qualità dei nostri vini avevamo veramente necessità nelle campagne di gente valida non arrivavano abbiamo pensato bene di rivolgersi agli estracomunitari quindi a Casanotto sono arrivati i rumeni e sono arrivati in un numero abbastanza consistente però il pensiero che ci ha convinti a tenerli perché dai primi arrivi avevamo notato che era gente laboriosa disponibile anche a imparare la nostra lingua era quella di dargli la dignità che meritavano quindi noi avevamo le cassine che abbiamo comprato soprattutto dai contadini che sono andati a Torino a produrre la 500 perché negli anni 50-60 un pezzo di storia ha ragione un'infinità di gente e che ci hanno regalato io mi ricordo sempre che nel 99 a visitare la nostra chiesetta dipinta da Soliwit in campagna era venuto l'avvocato Agnelli e l'avevo ringraziato gli ho detto guardi avvocato con la storia che lei le ha portate a Torino a fare la 500 noi abbiamo comprato tutte queste cassine per niente e quindi quindi c'era necessità di questa di questa mano d'opera e le garantisco oggi lei di cosa avrebbe bisogno meravigliosa senza io per esempio noi noi la filosofia della mia famiglia del mio e mio fratello io lo chiamo profitto sociale abbiamo sempre investito il 100% di quello che abbiamo guadagnato anche durante la pandemia abbiamo guadagnato bene però non abbiamo provveduto investimenti che abbiamo fatto quest'anno abbiamo comprato circa 30 ettari 30 ettari sempre nell'Alvese noi non siamo per andare alla conquista del mondo andare a civilizzare gli australiani piuttosto che i californiani no pensiamo alla nostra terra e basta così quindi con questo con questo sistema abbiamo fatto abbiamo necessità di una decina di persone perché 30 ettari tra lavorare la terra lavorare in cantina lavorare in amministrazione lavorare nella vendita deve assumere per forza una decina di persone e non li trova e c'è difficoltà e sui romeni sui romeni abbiamo già difficoltà perché entrando in Europa sono meno le persone che vengono qua no abbiamo già quelle del Bangladesh da 10 anni abbiamo già una quindicina di persone che arrivano dal Bangladesh quindi secondo lei dobbiamo fare entrare persone e formarli a un lavoro perché noi li avete molto bisogno bisogna formarle però vede noi ogni 10 persone noi abbiamo una scuola tecnologica d'Alba che crea diciamo degli ottimi tecnici agricoli ogni 10 persone mettiamo uno dei nostri mettiamo uno dei nostri che li educa li segue e quindi è la perfezione ma veramente sono bravi veramente imparano e veramente si sono adattati al nostro modo di vita allora mi verrebbe da dire e lo chiedo prima di tutto ad Alan Friedman si può fare ci sta raccontando una storia molto bella questo signore anche l'integrazione di gente che arriva lì che rimane che impara che impara la lingua cioè perché è così complicato perché sembra sempre invece che siamo vittime di un'invasione che dobbiamo difenderci quando invece i nostri imprenditori perché io ho scelto Bruno Ceretto perché la trovo una storia straordinaria la sua però onestamente non dell'agricoltura io conosco tante persone in confagricoltura è un coro unanime abbiamo bisogno di un sacco di gente dicono si in realtà è esattamente così e la storia di signor Bruno è una storia nobile di grande responsabilità sociale di toleranza di progressiva progressività nell'integrazione così si fa e credo che il signor Bruno saprà anche che i Bangladeshi non sono soltanto nel bellissimo alba ma anche dove si mungono le mucche vicino a Parma per fare il formaggio parmigiano un grande comunità Sikh indiano e anche Bangladeshi ci sono dintorni fra Parma e Reggio Emilia proprio lavorando e facendo un lavoro che gli italiani non vorrebbero e non vogliono più fare e queste comunità etniche che vengono da India da Bangladesh di Romania ma anche da più lontano anche da Africa possono essere una risorsa per l'Italia con un sistema di immigrazione che è calibrato ai diversi esigenze dell'Italia e skill sets mi spiego meglio ci sono due almeno due categorie di flussi che secondo me sono importanti e dove c'è una lacuna una mancanza di fornitura di manodopra uno è nel lavoro stagionale come descrive il signor Bruno nella coltivazione del settore di agricoltura dove è giusto formare anche in Africa chi vuole imparare l'italiano per poi avere la seconda categoria e chiudo è quello dove ci vogliono per le aziende soprattutto del nord quando facevo la ricerca per il mio ultimo libro il prezzo del futuro era proprio questo che Colau mi diceva sempre 3 o 400 mila persone sono richieste dall'industria del nord nel settore di alta tecnologia e gli italiani mancano perché le università italiane non le producono in sufficienza quindi invece di 70 o 80 o 90 mila all'anno bisogna aprirlo a 3 o 400 mila per quelli con i skill sets alti che servono l'industria italiana di farlo io questo non capisco sono cose così lineari però non riusciamo a farle fare le domande alla vostra classe politica non a me allora la faccio a Likeri Likeri caro classe politica che succede sembra sempre che siamo in un emergente terribile i posti di lavoro non ci sono la gente non trova lavoro stanno lì a prendere di stainanza per anni e anni da un lato Alan ci ha appena detto il contrario che invece ci servono i lavoratori dall'altro abbiamo un signore che ci racconta che lui avrebbe bisogno di impiegare più persone non le trova e abbiamo sto dramma dell'invasione ma che succede? Beh in quest'ultimo caso succede che la stupidità ideologica politica ha fatto sì che davanti ad una richiesta di occupazione di mano d'opera col diretti diceva 100.000 federalberg addirittura 200.000 insomma con un'offerta molto alta il governo per torno a ribadirlo stupidità ideologica ha fatto un decreto che autorizzava 82.000 ingressi regolari questo che cosa significa? Significa che noi portiamo mettiamo nelle mani dei trafficanti di esseri umani delle persone che scappano ovviamente da territori dove non c'è più speranza anche perché sottolineo anche anche perché le vie legali continuano a essere strette e sostanzialmente inaccessibili posso commentare una bravissima commenta Mirta perché è giusto vogliamo sentire anche Annalisa Chirico un attimo solo al volo via al volo al volo il problema dell'Italia non è una crisi di migrazione a Lampedusa vi ricordo che prima di 25 settembre non c'è stato un atteggiamento ideologico contro i migranti rumoroso questo è venuto con Salvini e Meloni al nuovo governo ora viviamo in questa tendenza di fare un incidente diplomatico con la Francia poi mettersi in pace però non doveva creare l'incidente da prima e poi non è possibile che Salvini continui a criminalizzare le ONG questo è terribile veramente terribile quindi l'Italia è in una situazione però questo è un po' il punto lo sta ribadendo anche lui c'è qualcosa che siamo dentro uno scontro biologico invece il problema dovrebbe risolvere in maniera molto più semplice ma io credo che non ci sia una volontà del governo di gridare al nemico esterno i numeri ci dicono però che l'immigrazione di questi ultimi mesi è qualcosa di sorprendente cioè negli ultimi cinque giorni abbiamo avuto sbarchi uguali ai primi tre mesi dello scorso anno una serie di problemi anche nel Maghreb in Nord Africa il terremoto in Turchia vari fattori stanno concorrendo a una spinta senza precedenti verso l'Italia però ecco per non mettere troppi argomenti sul tavolo perché chiaramente è quello dell'immigrazione regolare che anche questo governo si sta proponendo con un decreto flussi di incentivare perché è vero quello che diceva prima Bruno Ceretto che peraltro è portabandiera di un'eccellenza italiana che devo dire avendola anche visitata è un piacere per la vista ancora prima che per il palato cioè i suoi vini ma le cantine che hanno creato le cantine Ceretto nelle Langhe ci fanno anche sentire un po' orgogliosi di essere italiani oggi hanno un mercato fortissimo proprio fuori dall'Italia tanto sono apprezzati all'estero che cosa ci dice però che c'è sicuramente bisogno di mano d'opera anche straniera quindi va bene il decreto flussi che ha fatto questo governo e non i governi degli ultimi anni che non avevano fatto il decreto flussi Mirta neanche il governo di centro-sinistra paradossalmente è questo governo che fa il decreto flussi si può parlare poi sui numeri e il secondo elemento però in questo chiamo in causa anche di Keri perché insomma in questi anni abbiamo tanto sentito parlare di reddito di cittadinanza di sussidio per gli italiani in difficoltà questo sicuramente ha ridotto la propensione al lavoro l'Italia è il paese con i redditi medi più bassi in Europa questo secondo me tocca anche la propensione degli italiani a lavorare allora questa è una impressione interessante quando Ceretto ci dice gli italiani qua tanto non vogliono venire per nessun motivo non si chiede perché perché in fondo invece lavorare nell'anghi non è così terribile non vogliamo lavorare tante ore al giorno a investire a volte anche usuranti come può essere il mestiere dei campi o dei ristoranti per dei redditi molto bassi e vedo che sta arrivando anche Gianmarco Centinana della Lega torniamo subito allora scusatemi in tutto questo dovete sapere che Francesco Boccia caporuppo al senato per il PD è stato addirittura eletto per acclamazione vedo che sta parlando con i giornalisti Emilia mi riescono a parlare con Boccia sì è appena uscito sì ora ci proviamo ti richiedo la linea appena riusciamo a collegarlo ragazzi un attimo solo va bene va bene ok perché ti sembrava che fosse molto complicata la situazione del PD molto divisiva questa elezione dei due capi gruppo in realtà l'agenzia che mi arriva è che Boccia è stato eletto per acclamazione che vuol dire che il PD ha ritrovato il suo spirito unitario sono cose che succedono miracoli che succedono allora poneva la Chirico scusi Ricari questo problema cioè adesso giustamente Bruno ci dice io ho preso ho preso rumeni ho preso Bangladesh gente del Bangladesh gente che lavora molto bene ma in fondo è così terribile andare a lavorare in un posto meraviglioso come le Langhe in un posto tra l'altro con un datore di lavoro che mi sembra anche molto ben disposto la ragione Bruno c'è la tradizione di Ferrero che ha fatto il welfare aziendale prima di chiunque altro in Italia perché gli italiani non ci pensano proprio? Ci sono dei sociologi che hanno scritto libri su questo fenomeno che non è un fenomeno solo italiano è un fenomeno che riguarda l'intera Europa io ho in mente un articolo di Europe Today che parlava proprio del fatto che determinati settori dell'economia in questo momento hanno necessità di forza lavoro estracomunitaria ora le ragioni possono essere tante però bisogna darato a Bruno Ceretto che lui ha detto io nella mia azienda offro formazione e dignità nel lavoro purtroppo però in Italia non sono tutti Bruno Ceretto in Italia c'è anche il caporalato c'è anche lo sfruttamento e soprattutto in Italia non c'è un salario minimo legale sotto il quale non si può andare ovviamente questo pavimento di dignità che Ceretto offre ma altri come Ceretto non offrono è una battaglia che il Movimento 5 Stelle si augura adesso c'è Francesco Boccia il nuovo capogruppo che saluto e ai quali faccio i miei auguri e faccio anche ovviamente gli auguri a Simona Malpezi con la quale ho fatto il capogruppo insieme insomma io nel Movimento 5 Stelle né nel PD però occorre sicuramente un recupero dei valori della dignità e della giusta retribuzione anche in quei settori dove purtroppo abbiamo assistito a dei fenomeni che andavano in senso contrario Allora facciamo una cosa invece voglio un attimo tornare da Bruno Ceretto perché le voglio chiedere per capire anch'io ma quanto lo pagate voi qualcuno che ha cioè una persona che viene a lavorare da voi in campagna ma da noi esiste la meritocrazia assolutamente ma penso che complessivamente superano i 1400 euro al mese quello che posso garantirle è che i miei eredi in modo molto civile consigliati anche bene da noi si prende 14 mensilità da quest'anno l'anno scorso abbiamo dato anche la quindicesima perché ci abbiamo dato 1000 euro di premio quindi è un lavoro del tutto diciamo dentro le norme contrattuali italiane ecco non c'è nulla che non vada ce l'abbiamo boccia? ma noi avremo bisogno di 1000 ceretto abbiamo bisogno di 1000 ceretto capito? nel frattempo se non c'è boccia non ci capisco più nulla se non abbiamo boccia fatemi una cortesia mettetemi in linea il portavoce dell'Arce ci sono le associazioni che si occupano di immigrazione eccolo qui Filippo Miraglia buongiorno Filippo Miraglia allora voi avete detto questo decreto flussi che pure come diceva la Chirico qualcosa fa perché comunque 84.000 entrano secondo voi è una farsa perché è una farsa? ma basta ricordarsi intanto grazie buongiorno basta ricordarsi quello che è successo in Italia in tutti questi anni perché purtroppo quello a cui abbiamo assistito non è una novità il 14 marzo del 2006 alle 14.30 era ministro del governo Berlusconi 3 Pisanu davanti alle poste italiane perché all'epoca il decreto flussi le persone i datori di lavoro dovevano recarsi alle poste per fare la richiesta per fare entrare un lavoratore o una lavoratrice in Italia per motivi di lavoro davanti alle poste italiane ci sono le immagini di tutte le televisioni e le fotografie sui giornali c'erano quasi 500.000 persone a presentare domanda molte di queste decine di migliaia di persone erano lì dal giorno prima perché erano stati messi in palio diciamo 170.000 posti quindi tantissimi però le persone che chiedevano di poter far arrivare lavoratori o lavoratrici in Italia erano molte di più e davanti alle poste però a fare la fila per poter entrare per primi perché se non si arrivava per primi si rimaneva fuori diciamo da questi 170.000 non erano i datori di lavoro ma erano gli stessi stranieri perché i datori di lavoro avevano mandato il giorno prima gli stranieri a fare la fila perché questo? perché tutti sanno che il sistema dell'incrocio tra la domanda e l'offerta in Italia non funziona non funziona già a livello territoriale il decreto flussi prevede un incrocio tra domanda e offerta di lavoro a distanza di migliaia di chilometri cioè il signore che voi avete fatto parlare finora dovrebbe assumere delle persone che non conosce e che fa arrivare appunto dal Bangladesh dal Senegal dal Marocco quando c'è gente già in Italia e casamai già lavorato ma non è solo questo il punto è che il decreto flussi ha dimostrato dal 1998 ad oggi che quando c'è appunto questo provvedimento negli ultimi dieci anni purtroppo i governi di destra di sinistra e misti anche l'hanno bloccato non è male i governi misti soltanto l'anno scorsa e quest'anno si è ripresa diciamo si è ripresa a fare un decreto flussi serio perché negli anni scorsi c'è stato un decreto flussi fotocopia 38.500 posti erano quasi tutti stagionali ma ricordiamo di questi 82.000 posti 44.000 sono stagionali quindi quelli non stagionali sono molto pochi dicevo che in tutti questi anni hanno visto tutti che a fare domanda sono datore di lavoro che hanno i lavoratori già in Italia allora non ci sono entrati regolarmente è arrivato già Marco Centinaio vuol dire non che sono entrati mi scusi solo questa cosa vuol dire può darsi che siano entrati regolarmente oppure che sono rimasti sul territorio dopo essere entrati per un motivo diverso mi scusi per un motivo diverso per regolarizzare i lavoratori che sono in Italia se Dio vuole comunque lei la chiamerà pure sanatoria immaginavo che così l'avrebbe chiamata però prendiamo atto che ci sono persone che lavorano in Italia ma che non sono regolari allora Centinaio non gli consente di entrare per ricerca di lavoro voglio arrivare un secondo da Centinaio perché Centinaio conosce molto al di là della sua appartenenza alla Lega conosce molto bene il mondo dell'agricoltura ma lei me lo spiega perché se sappiamo il mondo dell'agricoltura richiede una quantità di lavoratori enormi in questa fase dove sta Centinaio dove devo rincorrere me lo mettete davanti grazie carini ecco la vedo adesso stavo rincorrendo l'immagine di Centinaio sui vari video praticamente facciamo un decreto flussi di 84 mila persone e ci accorgiamo dopo un'ora che sono 240 mila le richieste e ci accorgiamo che persone come Bruno Ceretto eccellenza nel Barolo nelle Lang dice io la gente non la trovo a lavorare per me faccio una fatica enorme fondamentalmente il problema il problema è che l'agricoltura ha bisogno di 240 mila persone più o meno mal contati io sono convinto però che dobbiamo capire esattamente se quelle 240 mila devono essere 240 mila persone che arrivano tutte dai paesi extra perché comunque ci sono anche persone italiane o persone europee che di conseguenza il lavoro che deve essere fatto deve essere non solamente quello di andare a cercare altrove ma dobbiamo anche cercare persone che sono già sul territorio nazionale c'è quindi l'idea di usare i flussi per sistemare persone che sono qui in maniera non regolare è un'idea che ci muove ma io sono sempre convinto di una cosa che le persone che hanno voglia di lavorare la possibilità di trovare posto nel nostro lavoro lo trovano sono contrario a sanatorie to cure perché poi va a finire che noi facciamo entrare gente in Italia in modo irregolare perché comunque questo è purtroppo continua a entrare gente in modo irregolare nel nostro paese anche nelle ultime ore ne sono entrati ne sono entrati troppi e poi dobbiamo fare delle sanatorie in alcuni casi anche per far finta che queste persone vadano a lavorare in agricoltura perché guardate che poi il periodo in cui queste persone lavorano nel settore agricolo non è 365 giorni queste persone lavorano per pochi mesi perché è un lavoro stagionale una volta che è finita la parte stagionale che fine fanno questi signori è questo che sta ponendo questo è il problema questo è quello che io voglio capire se è un lavoro stagionale e queste persone vengono in Italia a lavorare e stanno a lavorare tre mesi due mesi quattro mesi sei mesi benissimo ok ma quando è finito il periodo di lavoro queste persone devono tornare nel paese di provenienza in caso contrario diventa una sanatoria e saniamo tutti e facciamo finta che queste persone lavorino in agricoltura beh certo per una volta però è difficile una volta che sono in Italia che se ne torno a casa ma è quello che succede eh? che diceva? quello che succede i lavoratori stagionali quelli che entrano per lavoro stagionale che sono la maggioranza appunto dicevo nel caso di questo decreto flussi ma anche di quelli degli anni scorsi sono la maggioranza tornano a casa perché hanno un permesso di soggiorno di una durata massima di nove mesi e siccome sanno che se non tornano a casa non possono ritornare l'anno prossimo perché devono dimostrare di essere tornati nel paese d'origine e questi tornano tutti a casa il problema è di quelli che vogliono rimanere che non hanno un modo per entrare legalmente perché la legge italiana glielo impiedisce perché in tutti questi anni sull'immigrazione allora ci torniamo faccio parlare voi due un momento però prima devo andare da boccia però c'è una pubblicità? boccia devi avere un attimo di pazienza perché io l'ho aspettata parecchio adesso aspetta un secondo lei mi ha di pubblicità e poi arrivo un attimo arrivo subito allora boccia è collegato con noi dopo l'acclamazione di stamattina io avevo capito che era un'elezione molto tormentata invece addirittura per l'acclamazione è stato eletto ora arrivo boccia al volo delle previsioni del tempo del nostro Paolo Sottocorona facciamo presto perché quelle piogge che questa mattina ancora interessavano il medio versante adriatico si sono ormai esaurite e infatti la previsione per il resto della giornata di oggi sereno più sereno che poco nuvoloso domani qualche nuvola c'è non particolarmente intensa prende il nord qualche debole pioggia in Liguria se no soltanto questo qualche nuvola grigia ma non è neanche una giornata particolarmente grigia nella giornata di giovedì c'è qualcosa in più sulle zone prealpine un poco anche al centro in Liguria ma sono sempre venerdì me la dici domani piogge molto deboli però devo fare gli auguri a una splendida centenaria che si chiama Aeronautica Militare Italiana e oggi compie cento anni ci uniamo a te auguri all'Aeronautica Militare Italiana cento anni ben portati allora grazie Paolo Sottocorona Boccia vi siete messi d'accordo improvvisamente è tornato il sereno lei addirittura votato per acclamazione no ma il PD come sapete perché voi siete dei grandi esperti di storie del PD è un partito vero che discute ieri devo dire sulla relazione di Ellis Line si è aperto un bel dibattito con i gruppi parlamentari congiunti sulle prospettive sul modo di essere alternativi a questa destra e la discussione di ieri penso sia stata molto molto bella profonda vera e poi abbiamo portato a questa assemblea qui oggi al Senato ora penso stia iniziando in parallelo quella nella Camera con un altro dibattito altrettanto lungo e poi i senatori nella loro autonomia hanno deciso di accogliere la proposta della segretaria Ellis Line e li ringrazio perché questa cosa mi responsabilizza molto è un onore quindi Boccia mi scusi per capire anche tutto il mondo bonacciniano è tranquillo è d'accordo con la sua elezione beh penso sia stato proprio Stefano Bonaccini a sostenere questa ipotesi con tutti coloro che lo hanno sostenuto che devo dire anche nella loro autonomia oggi hanno fatto degli interventi molto belli intanto perché un gruppo parlamentare poi lavora quotidianamente sulle linee guida che vengono fuori dall'azione politica del partito ed è un partito che è cambiato molto che si è rigenerato proprio da questo congresso che oggi ha Ischlein segretario e Stefano Bonaccini presidente e lo avete già visto perché l'avete raccontato nei giorni scorsi è un partito che a differenza di quello che pensano alcuni nelle piazze c'è nato ci vive ora perché è tornato ricostruito una connessione sentimentale molto forte con le piazze e ci deve restare e non deve più lasciarle perché questo è il nodo in Parlamento noi dobbiamo essere all'altezza di quelle sfide e trasformare quelle sfide in azioni parlamentari mi riferisco a temi come il salario minimo la difesa del pianeta e le sue articolazioni stavo parlando qui in studio dell'immigrazione di questo decreto flussi 84.000 persone richieste 240.000 richieste da parte degli imprenditori che cosa farà il PD su questo tema forse dobbiamo un po' rivedere le cose la destra come sempre approccia questi temi con gli strumenti e la propaganda muore tragicamente la gente in mare e anziché diciamo capirne le ragioni drammatiche che hanno portato la gente a salire accusano diciamo chi sceleratamente li ha portati in mare non capendo quali sono le cause che li hanno portati lì così come gli imprenditori ci chiedono forza lavoro da tempo e si pensa di salvare la coscienza fissando diciamo delle quote e noi pensiamo che la discussione debba essere aperta non solo sulle quote richieste alle imprese ma sulla possibilità di consentire a qualche milione di persone guardi non centinaia di migliaia di persone noi forse abbiamo bisogno di due milioni di giovani lavoratori in alcuni comparti apriamo una discussione seria su cosa serve all'industria italiana eh no ma può farlo centinaia il problema di fondo è che il centinaio mi dirà ah ma ci sono gli italiani che non lavorano ma le conosco già le cose che dice la Lega nessuno nega il lavoro agli italiani anzi tutti gli italiani tutte le persone che sono senza lavoro devono essere protette anziché toglierli i venditi di cittadinanza intervistai Salvini quel giorno all'assemblea di confine di voltura la reazione quando l'obbligita parlò di quel centinaio dei 500 mila che dovevano entrare nel prossimo Boccia parla di due milioni per farle capire centinaio ma non lo diceva casualmente no due milioni complessivi c'è un quadro generale tra i vari comparti che se facciamo un'analisi seria ci porta no no la lascio centinaio vi lascio assolutamente al vostro dibattito non volevo infilarmi nel dibattito dico semplicemente che bisogna essere seri e capire quali sono le ragioni che portano le imprese a fare queste richieste e poi la gestiamo centinaio ma in primo luogo auguri di buon lavoro a Boccia al nuovo capogruppo e anche ricordo ricordo però anche con amicizia il lavoro che ha fatto la Simona Malpezzi e quindi quindi la ringrazio per il lavoro da capogruppo che ha fatto la frecciatina questa la frecciatina ricordiamo Malpezzi lo dico da vicepresidente del senato perché io non è che sono solo della Lega sono anche vicepresidente del senato ha ragione ha ragione bravo lo dico anche da vicepresidente del senato e penso che Simona Malpezzi abbia fatto un grande lavoro e penso che lo farà anche Boccia il senatore Boccia il capogruppo il presidente Boccia questo punto di vista non ci sono assolutamente lo volevo dire in assoluta serenità per quanto riguarda la questione immigrazione sembra stiamo tirando i numeri del superenalotto allora il ministro Lillo Brigida ce ne dice 500 mila il senatore il presidente Boccia ce ne dice 2 milioni adesso poi noi ne abbiamo detti 240 mila in studio e via e chi più ne ha più ne metta sono convinto di una cosa e non lo dico da semplicemente da esponente della Lega ma se il partito democratico ha tutte queste soluzioni io continuo a farmi la domanda hanno governato dieci anni dieci anni il partito democratico ha governato dal 2013 dal 2013 al 2023 tranne nel biennio 2018-2019 il partito democratico ha sempre governato e le soluzioni le trova adesso che all'opposizione che all'opposizione quindi gli argomenti li dovevate tirare fuori quando governavamo facciamo rispondere questa è una seconda cosa ma la Lega non era mica l'infosfera, era al governo la Lega continua a dire la Lega continua a dire che le persone devono entrare in modo quanto il PD lo stesso tempo del PD lo sai no? e siete stati allo stesso tempo del PD nella scorsa legislatura siete stati al governo quanto il PD non tiriamo fuori le soluzioni adesso le soluzioni ci stiamo provando a governare sui principi e sui valori non sulle soluzioni le soluzioni non ce li ha nessuno sui principi e valori principi e valori principi e valori ci sono milioni di italiani che sono a casa senza lavoro principi e valori perfetto? ci sono milioni di italiani che sono a casa senza lavoro però il lavoro c'è il lavoro signori c'è nel nostro paese il lavoro esiste esiste ok? altra cosa che penso che sia importante è il fatto che bisogna capire esattamente quante persone in più ci vogliono ci sono alcuni tipi di lavoro ci sono no ci sono no no perché allora tu stai cercando gli schiavi se hai bisogno di alcuni tipi di lavoro tu stai cercando gli schiavi no Marco no no tu stai cercando gli schiavi penso all'industria pesante anche operai specializzati mi trovi e quindi cosa facciamo? purtroppo non li trovi perché non sono stati formati poi c'hai un sacco di gente non formati forse dobbiamo lavorare per formare le persone che alcune dobbiamo lavorare per formare le persone e non posso prendere persone a caso un commento di Alan ma io ascolto con grande interesse questi due punti di vista ma io vorrei dire due cose semplici la prima non bisogna confondere a mio avviso la questione dell'immigrazione e chi arriva in barcone in Calabria o in Sicilia dal Mediterraneo e Tunisia tutta questa storia non bisogna confonderlo chiarissimo quindi io mi indirizzo solo all'aspetto economico l'aspetto economico è che per l'Italia che ha bisogno per l'industria 240.000 o 300.000 ingegneri persone con dei skill sets che le università italiane non stanno facendo è autolesivo a non prendere questi 240.000 autolesionista chiarissimo Alan pensiamo a dove siamo oggi siamo messi così dice Frida ma cerchiamo di essere pragmatici io devo correre in pubblicità ringrazio sia Boccia che il centenario siete arrivati un po' tardi se no avremmo fatto un dibattito meraviglioso ma lo rifaremo pubblicità è finito il tempo Mambo Mambo Italiano Mambo Italiano ci vediamo domattina avremo molto da parlare anche domani a domani Mambo Italiano io ciao 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 ciao